Dovrebbe esserci Cico che lo vedo scendere Ecco sì sono io questo E basta a me non mi pare di vedere nessun altro Qua intorno quindi boh A me a me a me non mi vedi Io ti vedo a te Anna sarai quella là in fondo suppongo Sì questa mi salta Allora proviamo a risalire un po' Tipo 20 blocchi così verso l'alto E riapriamo un tunnel Dobbiamo trovare Dobbiamo arrivare sotto la zigurata praticamente ok Va benissimo Ma io mi sono perso è molto difficile orientarsi qua sotto Possiamo riprovare a fare un'altra volta Il bug di strecato per vedere sottoterra Ma quindi andiamo a zig zag scavando? Oh! Oh! Che hai visto? Il nome! Il nome! Il nome! No! Cosa ha fatto? Dove? Ha slogato Ha slogato Era qua eh Era qua Era qua Avete visto tutti? Chat sei visto? Abbiamo la clip Qualcuno può fare la clip? La posso fare io?